Cinque anni fa saliva al soglio pontificio Papa Bergoglio, cinque anni intensi celebrati in tutto il mondo e noi ricordiamo questi anni qui in studio questa mattina con un libro scritto da un giornalista Massimo Orlandi. Buongiorno. Buongiorno Cristina. Ciao, ben trovato giornalista e anche collaboratore della comunità di Romena perché questo libro nasce proprio all'interno di questa comunità. Perché? Allora, Romena è un porto di terra dove passano tanti viandanti di questo tempo, persone molto diverse, credenti, non credenti, di varietà, formazioni, cammini e noi abbiamo in questi anni sentito che il bisogno di umanità, di risposta alle grandi domande della vita arrivava da Papa Francesco con un'immediatezza, con un'autenticità che ci ha colpito e allora in occasione di questi cinque anni abbiamo pensato molto semplicemente di dirgli grazie un grazie nostro ma anche grazie di figure della spiritualità e non solo della società che sentiamo particolarmente vicine e affini. Infatti in questi anni anche alla comunità di Romena sono arrivati personaggi della cultura, della letteratura, della fede, credenti e nonne e voi in questo libro che si chiama appunto Semplicemente Grazie avete raccolto alcuni contributi. Ce n'è uno che ti ha particolarmente colpito? Mi ha colpito il fatto che questi 18 personaggi hanno tutti accettato molto volentieri di pronunciare questo grazie quindi si sentivano tutti molto coinvolti e ci sono figure molto diverse da Henry De Luca a Moni Ovadia, Maurizio Maggiani, e poi all'interno della chiesa, preti di frontiera come Donciotti, Hermes Ronchi, a me ha colpito tantissimo mi ha quasi commosso una frase che ha pronunciato Alberto Maggi che è un appassionato divulgatore del Vangelo, un frate che è stato un po' sempre vissuto dalla chiesa con un po' di fatica, con un po' di sofferenza diciamo della chiesa istituzione, allora lui quando gli ho chiesto ma se lo incontrasti cosa gli vorresti dire mi ha risposto, vorrei dirgli Francesco per 40 anni mi hanno fatto sempre sentire fuori dalla chiesa mi hanno considerato un eretico e poi sei arrivato te e ho capito che invece ero soltanto fedele al tuo stesso Vangelo quello della misericordia, ecco questo Papa è in grado di abbracciare, di includere, di inserire nella chiesa dando un respiro liberante a tutti i fedeli. E allora semplicemente grazie a Paolo Bergoglio e grazie anche a te di averci portato questo libro che sarà in edicola naturalmente, che sarà in libreria e dunque grazie ancora e noi proseguiamo con gli appuntamenti culturali nell'agenda curata da Francesco Tei